In questo server è ospitato Andrea, che in questi giorni lavora ad un importante progetto. Purtroppo Andrea condivide le risorse con altri inquilini molesti. Le storie così ce ne sono un sacco in giro per la rete. Per questo Andrea vorrebbe trovare una soluzione più adatta a lui e decide di migrare ad un server virtuale privato. Ecco che Andrea ha tutto ciò che gli serve. Libero di adattarlo alle sue reali esigenze in qualsiasi momento, indisturbato e sicuro. 1. Il server virtuale come nessuno.